Sono qui perché ho bisogno di toccare il prezioso e la bellezza. Tatiana è arrivata da Kifu un mese fa, frequenta la scuola di italiano di Sant'Egidio. Come molte altre donne ucraine e i loro bambini fuggiti dalla guerra, fa parte del gruppo di immigrati e rifugiati che ha risposto alla proposta di un primo maggio diverso. Noi ringraziamo la Galleria Borghese perché effettivamente ci ha dato questa opportunità. In due giorni non avevamo 300 posti ma siamo in overbooking, cioè tantissime persone lo chiedono. Quindi probabilmente chiederemo ulteriore possibilità e da questo momento in poi andremo anche in altri luoghi se ce lo permetteranno. Sono 4.500 le persone che frequentano attualmente la scuola. Perché noi siamo studiari di cultura per fare tutto, per vederlo, dobbiamo vederlo praticamente. Per molti di loro è forte il bisogno di entrare in contatto profondo con la cultura italiana. È meraviglioso, non ho visto era così grande. Ho visto Davide contro Goliad, è piaciuto molto di San Girolamo, è piaciuto tutto di Paolina, tutto di Daphne. Mi è piaciuto molto.